Ciao a tutti, come state? Siamo ormai giunti, anche un po' ormai alla fine dell'estate Una grande estate Bellissima estate, inaspettata in cui abbiamo avuto modo di suonare di scoprire i posti nuovi, di conoscere gente nuova e soprattutto di portare in giro il nostro lavoro che abbiamo uscito a marzo di quest'anno Girl, Maze, Painted Black per il disco ineditori di Griever Per chi non ce l'ha, lo trovate ancora disponibile sul nostro sito È stata una bella scommessa Volevamo, con questo piccolo video omaggiare e ringraziare tutti i locali i gestori, gli organizzatori, le associazioni che ci hanno dato modo di esibirci in quest'estate e di portare in giro il nostro lavoro e la nostra musica E allora vi lasciamo con una breve carrellata di tutti i posti dove siamo stati E allora vi lasciamo con una breve carrellata It was about the end of my lockdown E allora vi lasciamo con una breve carrellata 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 perché ci saranno novità nei prossimi mesi ve le annuncieremo poco alla volta e un po' di suspense e dove le trovate? su tutti i nostri canali social facebook, instagram, youtube e soprattutto il sito www.bigriverband.com prossimi concerti, prossimi progetti ed è sempre acquistabile in versione digitale o reale il video Girl Nails Painted Mac il video Girl Nails non è ancora finito